Ciao sono Marco Bellavia, volevo ricordare che il 14-15 di novembre ci sarà questa fantastica manifestazione Ottobiano Sport Show dove l'intero ricavato di tutte le iscrizioni e tutte le varie cose sarà devoluto in beneficenza a favore dell'associazione Marina Romoli Onlus ma con me c'è anche un amico che però quest'anno non potrà essere con noi Ciao ragazzi, mi dispiace non esserci quest'anno perché rientrare con i vecchi amici è sempre stato bellissimo però sarò con voi l'anno prossimo, lo stesso giorno io sarò a Miami e ripenserò, siete grandi